Luigi Maldara, grazie per essere venuto a trovarci, continuo la nostra ricerca di imprese di questo territorio che in qualche modo rendono Corato forte da un lato e conosciuta oltre i confini sia nazionali che internazionali, non ci conoscevamo, io mi sono imbattuto nella tua azienda facendo questo scouting che mi sta appassionando in questo periodo e a un certo punto ho scoperto che un mio concittadino fa automazione o addirittura è leader in Italia per la produzione di macchine che aiutano, robotizzate, adesso magari mi spiegherai meglio tu che cosa fate, MBL Solution è un'azienda che nasce nel 2005, che cosa fa MBL Solution? Beh, grazie dell'invito e sono onorato e felice di poter raccontare ai nostri concittadini l'accorato che produce, quindi l'accorato che crea occupazione, l'accorato che vuole in qualche maniera rendersi protagonista. A discapito della vita politica che in questo periodo è un po' meno gratificante. Lo so, questo è un problema ma speriamo che si possa risolvere rapidamente, perché l'imprenditore ha bisogno di risposte. Detto ciò, sì, allora noi nasciamo nel 2005, è stata una mia volontà, io mi sono formato come progettista meccanico nel settore automazione robotica. Tu sei un ingegnere? Sono ingegnere meccanico, mi sono laureato al Politecnico di Bari e mi sono specializzato come professione presso un'azienda che attualmente è ancora leader nel centro-sud Italia nel settore dell'automazione applicata al settore automotive che è la Masmec SPA di Modugno che è una delle realtà più importanti sul nostro territorio. Il cui proprietario è stato anche Presidente di Confindustria. Il Presidente, sì, l'ingegnere Angelo Michele Vinci è stato per me un padre ma soprattutto un formatore da un punto di vista imprenditoriale perché da lui ho imparato tanto e quindi non finirò mai di ringraziare tutto il beneficio che la cultura imprenditoriale che mi ha trasmesso nei pochi anni, ho lavorato otto anni presso la loro spettacolare azienda e ho cercato in qualche maniera di trasferire questo know-how di conoscenze applicandola alla General Industries. Quindi il mio obiettivo il giorno in cui ho deciso di scrivere questo progetto imprenditoriale era quello di mettere a disposizione delle aziende non automotive, quindi parliamo del settore del food, parliamo del settore agroalimentare, parliamo dei cassifici, parliamo del chimico, del farmaceutico, insomma tutti quei settori che in realtà avevano bisogno di attrezzarsi con impianti robotizzati. Nel 2005 è stato complicato perché le piccole e medie aziende che rappresentano l'80% del nostro tessuto imprenditoriale vedevano il robot come qualcosa di estremamente irraggiungibile. Lo si guardava solo in tv, si guardava le multinazionali, i costruttori di auto che utilizzavano queste macchine fantastiche, però secondo la loro cultura non era un investimento alla loro portata, in realtà non è così. Quindi noi nel 2006, un anno subito dopo la nascita, abbiamo iniziato ad imbastire un rapporto di collaborazione fra l'altro di formazione culturale nei confronti dei nostri amici, clienti, i quali ci hanno dato fiducia e partendo appunto da questo rapporto fiduciario che necessariamente deve instaurarsi fra un fornitore e un cliente, soprattutto all'inizio quando uno non ci si conosce, abbiamo iniziato a creare le nostre prime macchine, abbiamo brevettato, attualmente abbiamo più di 30 brevetti depositati. Per far capire a chi ci ascolta, concretamente che cosa fate? Concretamente dopo alcuni anni in cui abbiamo cercato di trovare il nostro settore di lavoro, ci siamo specializzati nella logistica interna alle aziende. La logistica che tutti quanti dicono, per me la logistica è il corriere che ritira il pacco e lo porta a destinazione, in realtà oggi la logistica ha un significato molto più ampio. Si parla di logistica, quando parliamo di logistica parliamo di qualcosa che si muove all'interno di un'azienda, quindi la logistica è anche la distribuzione di una corrispondenza all'interno di un'azienda, oppure il transito delle materie prime per arrivare a un prodotto finito, come anche la movimentazione del prodotto finito, quindi parliamo di packaging secondario, parliamo di inscatolamento, parliamo di palletizzazione. Quindi in tutto questo processo, quindi del packaging secondario, voi vi ponete attraverso la vostra tecnologia, attraverso i vostri robot, di dare un supporto logistico di questo tipo. Esatto, quindi noi interveniamo da quel momento in poi, quindi una volta che il prodotto viene confezionato, noi lo gestiamo integralmente fino al magazzino. Luigi, ma tu sei stato otto anni che ingegnere, ti laurei, lavori per otto anni in questa azienda, di successo che il leader in Europa, credo, e anche fuori Europa, nel mondo, con l'azienda dell'ex presidente Vinci. Quando scatta quella cosa per cui, perché un'altra persona direbbe ma io sto bene, faccio l'ingegnere, magari prendo un buono stipendio, passo magari di azienda in azienda in maniera tale che posso vendermi il mio know-how in maniera più intelligente, che cosa è scattato a un certo punto dentro di te per dire ok, faccio l'imprenditore? È stata una decisione comunque abbastanza complicata e difficile, diciamo che dalla mia c'era nel DNA il sangue paterno, perché mio padre è un imprenditore. Tuo padre adesso non è in attività, è in pensione, a 77 anni, però tuo padre aveva un'azienda di arredamenti e i tuoi fratelli comunque continuano, fanno l'imprenditore anche in altri settori. Esatto, mio padre ha fondato questa azienda negli anni 80, nella quale praticamente ha riposto tutta la sua vita, poi per n motivi l'azienda non ha potuto proseguire la propria attività e quindi i miei fratelli si sono comunque, per le loro capacità, si sono poi orientati a costruirsi altri obiettivi. Io sono stato, fra virgolette, la pecora nera, diciamo così, della famiglia, in quanto il lavoro di mio padre non mi entusiasmava, perché io sin da piccolo sono stato sempre appassionato della meccanica. Ricordo dalla piccola età che smontavo le macchine radiocomandate, cercavo di scoprire la curiosità di capire come fosse fatta e costruivo con i Lego, dalle gru alle aeroplane. Ho avuto sempre questa tendenza che ho maturato sin da piccolo e ho proseguito nel percorso. Io proprio come cultura formativa ho deciso di non fare il liceo, ma di seguire la strada dell'industriale, quindi ho fatto l'industriale presso l'eccellente scuola Agli Annuzzi di Andria, dove mi sono prima diplomato come pedito meccanico e poi ho proseguito gli studi. Una cosa non da poco, io mi sono laureato lavorando, perché al terzo anno di università la Masmec cercava delle figure tecniche all'interno dell'ufficio tecnico e quindi ho colto questa opportunità per poter iniziare ad apprendere il lavoro complicato che fa un ingegnere meccanico nel settore macchine industriali. Ma quel passaggio che c'è stato, che cosa scatta nella testa di una persona quando tu lavori in un'azienda di eccellenza? Allora, scatta praticamente la voglia di creare qualcosa di proprio. Allora, io dico che non tutti possiamo essere imprenditori, perché fare l'imprenditore significa avere innanzitutto un ruolo sociale, perché l'imprenditore ha dalla sua, in primis la responsabilità delle persone che ci lavorano. Quindi i sacrifici, il sempre accrescere le proprie conoscenze, il fatto di creare prodotti nuovi, la responsabilità. Quindi sono comunque delle attitudini che deve avere un imprenditore. Quindi la base della capacità imprenditoriale c'è prima di tutto il benessere dei propri dipendenti. Io ricordo, cioè ricordo, e spesso quando vedo che i miei dipendenti, chi acquista la casa, chi acquista insomma un'auto nuova, alla fine... Quanti dipendenti avete? Attualmente noi siamo in 14 e entro quest'anno comunque contiamo di assumere altre 3-4 risorse, perché l'azienda è comunque in forte crescita. Mi ha fatto molto specie che da quando siete nati fino ad oggi avete già fatto 5 traslochi. Nelle ambizioni di crescita, visto questi precedenti, ma visto anche gli obiettivi che ti poni, mi hai parlato di raggiungere, adesso avete fatturato nel 2018 2 milioni di euro, andrete verso i 3 milioni alla fine di questo anno, ma nei prossimi 5 mi parlavi di ambire ad arrivare a 10, ma come si fa? Quali sono gli step che ti sei posto? Allora, lo step è quello di creare delle alleanze, quindi noi cerchiamo sempre all'interno del nostro comparto delle aziende che possano in qualche maniera aiutarci in questa crescita, perché per fatturare 10 milioni di euro nel settore dell'innovazione ci vogliono altrettanti gli investimenti, perché non siamo un'azienda manufatturiera che produce un prodotto in serie, noi dobbiamo sempre produrre macchine completamente diverse l'una dall'altra, dobbiamo specializzarci in alcuni settori e comunque c'è anche la concorrenza. Grazie a Dio le nostre macchine in qualche maniera racchiudono una quantità di concorrenti molto minima, perché sono macchine molto specializzate, noi oggi siamo in grado di fornire una soluzione robotizzata quasi a tutto, per noi al momento l'impossibile non esiste, è ovvio che la buona riuscita di un progetto, dato che sono tutte realizzazioni sartoriali, partono dal rapporto fiduciario fra fornitore e cliente, ma soprattutto la collaborazione che si instaura, come quella di un sarto, il sarto che prende le misure, quindi chi lo indossa deve poi dire al sarto stringimelo un po' qua, allargamelo un po' lì, quindi se si crea questo feeling fra fornitore e cliente, il progetto è vincente. Voi avete già iniziato questo percorso, mi parlavi della piattaforma di Indie e GoGo, con la quale insieme ad altre aziende avete lanciato una raccolta in fondi, siete arrivati a raccogliere per un nuovo progetto 1 milione e 400 mila dollari, che cosa farete con questo denaro? Beh, diciamo che abbiamo già terminato questa prima fase, il progetto è partito a fine del 2016, dove un'intuizione mia e di uno dei soci che comunque li siede a Genova, Giacomo, e ci era venuto in mente quella di sviluppare un sistema servo pedalata assistita intelligente. Per le biciclette? Per le biciclette, quindi l'idea qual era? Era quella non di vendere la bicicletta, ma di vendere un sistema, quindi un kit, che fosse praticamente acquistabile da tutti coloro che avessero già una bicicletta. La bicicletta, parlando anche con chi è amante delle bici, è come l'auto, è qualcosa sulla quale uno si affeziona. Quindi se io ho la mia bicicletta, anche storica, però per motivi di età non riesco più ad andare in bici, perché non ce la faccio, problemi di salute, di cuore, eccetera. Quindi noi abbiamo colto questa necessità di questa tipologia di clienti, abbiamo sviluppato un sistema che autoregola la gestione della potenza, ad esempio leggendo i battiti cardiaci, quindi indossando un cardiofrequenzimetro impostando la nostra app che è stata ovviamente sviluppata a una pulsazione di 70-80, il sistema pesa complessivamente due chili e mezzo, quindi è il più leggero in assoluto. Quindi fantastico, tu lo prendi, te lo monti da solo, lo applichi sulla bici, lo si monta in meno di mezz'ora. Quindi anche uno che ha difficoltà come me, diciamo, perché sugli aspetti tecnici è molto facile, perché viene venduto in kit con un tutorial, quindi un video del tutorial dove ci si spiega come montare. E quindi siete riusciti a trovare investitori in giro per il mondo? Ecco, noi in realtà eravamo partiti intervistando e chiedendo l'aiuto a diversi imprenditori che purtroppo non credono mai, perché i progetti di start-up, i progetti innovativi sono comunque dei progetti dove ci si può anche non arrivare ad un obiettivo. La ricerca e sviluppo è questa, io ricerco se è possibile arrivare a un determinato obiettivo. Gli imprenditori solitamente investono su qualcosa che per loro è certo e questa cosa non esiste nell'innovazione. Quindi attraverso delle conoscenze che avevamo siamo arrivati ad una società che è la Zagato di Milano, che è una nota autocarrozzeria che fa allestimento di auto anche molto costoso, in ordine di 700-800 mila Euro ad auto e tramite loro siamo riusciti a costruire questo progetto che abbiamo poi lanciato sulla piattaforma di crowdfunding Indiegogo dove i nostri sostenitori hanno acquistato anticipatamente il prodotto e con quel finanziamento siamo riusciti a sviluppare un prodotto che fra qualche mese sarà commercializzato e contiamo dal prossimo anno, se ce la facciamo entro la fine del primo semestre del prossimo anno, di poterlo anche rendere disponibile in tutti i negozi d'Italia. La cosa che mi è parsa di capire quando sono venuto a trovarti in azienda da te è che esiste una dicotomia molto forte fra la necessità di aziende di innovazione ma anche banalmente aziende metalmeccaniche, non che banalmente voglio esaminire le aziende metalmeccaniche però diciamo sono un pochino più standard rispetto ad un'azienda di innovazione, nel tuo caso addirittura scuole di formazione che esistono pensate come la Coccovillo di cui tu mi parlavi e poi non c'è questa tendenza o addirittura io la chiamerei tentazione da parte di chi esce dal mondo della scuola, quindi si diploma, di andare poi a frequentare dei corsi che gli permettono di trovare lavoro. Io in una presentazione a cui ho assistito con il presidente Fontana mi è subito balzato agli occhi questo aspetto dissonante, cioè c'è una scuola che forma persone che a distanza di sei mesi trovano subito occupazione, aziende di automazione come la tua hanno bisogno di queste persone, non c'è molta gente che ha voglia di fare queste scuole. Sì, questo è un dato allarmante, vi faccio un esempio, negli ultimi due anni in percentuale è cresciuto il numero di iscritti in questo ITS Coccovillo di ragazzi che sono usciti dai licei ed è una cosa veramente abbastanza anomala perché non ci sono iscrizioni da parte di ragazzi che escono dalle scuole tecniche, quindi soprattutto gli industriali, che ce ne sono comunque tante e sono delle scuole che comunque garantiscono quasi al 99% un posto di lavoro. Tieni presente questo, che il livello di innovazione all'interno di un processo produttivo gli imprenditori sono obbligati ad aumentare questo livello di innovazione se vogliono competere però le macchine innovative o la 4.0 di cui si parla spesso richiede anche una riqualificazione del personale. Ma tu mi dicevi molto spesso che ti trovi a che fare con dei ragazzi con i quali interagisci e dici guarda fatti la scuola, impari, ma non vedi questo feedback di investimento su se stessi? Allora la percentuale di ragazzi che veramente investe su se stesso io credo che si possa migliorare ma penso che sia proprio la società che sta cambiando perché io ho 44 anni quindi appartengo alla generazione che oggi sta mantenendo insomma il paese e vedo ragazzi che appena finiscono la laurea scappano, scappano dalla Puglia perché ritengono che in Puglia non ci sia un'opportunità di lavoro e alla domanda ma hai avuto modo di fare una ricerca e capire che aziende ci sono in Puglia e quali di queste aziende possono secondo te interessarti per crearti una tua professione? A questa domanda nessuno mi risponde quindi c'è una mancanza di conoscenza il territorio anche un po' un luogo comune, me ne vado perché tanto qua non c'è niente però magari non so che dietro casa mia banalmente Allora da un lato la responsabilità è sicuramente un po' del sistema quindi è un po' della tutta la filiera e ci mettiamo anche noi imprenditori che abbiamo colpe quindi le scuole, le università, le associazioni fino alle imprese, ognuno ha la propria quota di responsabilità però c'è anche da dire una cosa noi negli ultimi 5 anni abbiamo riportato in Puglia diversi pugliesi quindi pugliesi che sono dovuti andare fuori dalla propria regione per motivi lavorativi perché secondo loro non c'erano aziende interessate a e poi a distanza di anni li abbiamo fatti ritornare e questo è un vantaggio Bellissimo Un vantaggio perché Questo l'avete fatto con Confindustria? No, in realtà Confindustria gioca sicuramente un ruolo da un punto di vista della comunicazione quindi Confindustria deve in qualche maniera sensibilizzare i giovani a rimanere nel proprio paese ovviamente Confindustria da sola non può ottenere questo risultato quindi ci vuole comunque una sinergia fra la regione fra i comuni, fra le imprese e le scuole soprattutto però c'è anche da dire questo la nostra azienda è arrivata nell'arco di 14 anni oramai a diventare leader anche grazie alle competenze che hanno portato ragazzi che si sono poi formati fuori dalla regione o fuori dall'Italia con la loro mentalità, con il loro know-how con il loro modo anche di lavorare quindi una metodologia che ovviamente è diversa da quella comune che noi mediamente utilizziamo e in più gioca anche a favore per aziende che innovano i propri prodotti, i propri processi anche l'inserimento di forza nuova quindi forza giovane perché i giovani hanno creatività un entusiasmo e comunque sono sempre portati alla curiosità la curiosità esatto quindi l'innovazione non è un qualcosa che prendi e la fai l'innovazione è come una pianta che pian pianino deve crescere e quindi va sviluppata, va carezzata, va curata perché non è soltanto acquistando un macchinario super innovativo che io risolvi i miei problemi quell'impianto poi va manutenuto quell'impianto va condotto per condurre e manutenere quell'impianto hai bisogno di persone che siano culturalmente e tecnicamente preparate per poter far funzionare bene quell'impianto ma tu parliamo di un aspetto che coinvolge MBL Solution ma che in qualche modo lo coinvolge non direttamente tu sei anche coratino e vivi questa città come molti coratini probabilmente sei sempre in giro quindi non la vivi appieno però da uomo del fare da persona concreta ti rendi conto che probabilmente esiste questo aspetto ossimorico da un lato c'è un'eccellenza direi un DNA di persone concrete che poi alla fine determinano nella classifica di Puglia a essere i primi in ordine tra tutte le aziende tra tutti i gruppi che sono presenti a Corato e poi c'è come dire una dilagante crisi amministrativa la stiamo vedendo in questi giorni di fine luglio che probabilmente non dà rispetto alle aziende di questo territorio che idea ti sei fatto? Allora premetto che io la politica la seguo non farò mai il politico perché non è il mio mestiere riesco a fare abbastanza bene l'imprenditore quindi cerco di dedicare la mia vita alla scienza e ritengo che la politica debba assolutamente mettersi d'accordo il prima possibile perché eventuali gelosie, invidie, lotte, intestine fra partiti eccetera eccetera alla fine mettono in crisi una città una città fra l'altro che io la ritengo una delle più produttive in Puglia basta pensare al gruppo Casillo che è la prima azienda privata in Puglia come fatturato e con tutto ciò che produce Casillo come indotto Corato può diventare secondo me l'eccellenza nella città metropolitana di Bari uno perché ci sono le capacità imprenditoriali ci sono imprenditori seri ci sono imprenditori che rischiano che investono capaci ma soprattutto etici quindi parliamo di imprenditoria veramente imprenditoria seria di imprenditori che fanno il loro lavoro con passione anche rinunciando al proprio guadagno ma per loro far crescere l'azienda allargarsi, ampliarsi e innovare e anche esportare per loro oramai è nel DNA quindi noi abbiamo dalla nostra cittadini di Corato che sono secondo me dei cittadini che non sono molto non chiedono tanto ci chiedono semplicemente di ritornare ad essere una città che sia vivibile che sia sicura pulita che venga gestita bene e che consente ai loro figli di poter rimanere sul territorio ma secondo te l'imprenditore ha questo ruolo etico di come dire intervenire laddove la pubblica amministrazione non arriva cioè è vero che il compito dell'imprenditore non è quello di amministrare perché altrimenti Luigi Maldra faceva il politico piuttosto che l'imprenditore ma a tuo avviso tu sei anche tra l'altro consigliere dell'AIC e quindi hai un ruolo anche istituzionale da questo punto di vista ritieni che voglio dire l'imprenditore in qualche modo non lo so in che modo sinceramente non lo so però a un certo punto siccome è una persona abituata alla concretezza e abituata anche ai risultati perché poi alla fine dell'anno devi tirare la linea e devi dire ok ho fatto o non ho fatto c'è bisogno in qualche modo di un intervento da parte della classe imprenditoriale laddove il pubblico per n motivi lotta intestina incapacità sistema non riesce guarda noi nell'AIC con il presidente Esqueo comunque l'AIC ha combattuto io sono nell'AIC da pochi anni quindi conosco la storia dell'AIC conosco anche la storia dei vari presidenti che sono succeduti quindi in realtà l'AIC è un'associazione libera che cerca di portare la voce dell'imprenditoria quindi del tutto il mondo imprenditoriale di Corato ad n livelli quindi non solo a livello del comune di Corato ma anche per pratiche che possono riguardare la regione quindi io mi sono anche prestato perché sono anche nella Confindustria Bari a interessare la Confindustria anche su temi di ordinaria amministrazione voglio dire tipo i rifiuti la gestione di rifiuti e quant'altro quindi il nostro ruolo è quello ovviamente di farci portavoce di quello che è il malessere della nostra categoria è ovvio che come qualsiasi associazione l'associazione va vissuta l'associazione va comunque partecipata gli nostri associati come anche in Confindustria non è che avendo soltanto la tessera in Confindustria ho risolto il problema io devo assolutamente rendere partecipi rendermi partecipe consigliare e dare il mio contributo affinché possa cambiare qualcosa e devo dirti che è una cosa molto complicata possiamo capire che l'imprenditore non ha tempo possiamo capire che l'imprenditore è comunque sempre preso da n problemi aziendali eccetera però noi ci riuniamo ogni 15 giorni per un'oretta quindi un'oretta di tempo due ore al mese io credo che si possano trovare lanceremo nei prossimi mesi con il contributo dei miei amici consiglieri un progetto per cercare di andare noi a conoscere i nostri associati quindi categoria per categoria quindi andare presso le loro aziende conoscerle e capire di cosa hanno bisogno cercando comunque di attirarli all'interno dell'associazione perché da soli purtroppo non riusciremo mai a fare nulla e comunque sia ogni sforzo che noi potremmo fare diventa vano se poi dall'altra parte che sia un'istituzione che sia qualsiasi ente eccetera è necessario che dall'altra parte ci sia un orecchio insomma che voglia ascoltare perché purtroppo nell'ultimo periodo abbiamo avuto pochissime risposte su temi fra l'altro importanti parliamo semplicemente di infrastrutture che sono uno dei problemi delle nostre imprese cioè non è possibile parlare faccio un esempio nel mio settore di 4.0 se ci sono delle aree industriali dove non c'è la fibra o comunque si va ancora con la DSL cioè stiamo parlando veramente della preistoria quindi partiamo dalle bassi cerchiamo di creare le condizioni migliori per far sì non solo che l'imprenditore già presente continua ad investire sul territorio ma comunque diventiamo attrattivi anche nei confronti di altri comuni limitrofi vedo ad esempio Molfetta che si è assolutamente beh questo l'ha fatto la politica l'ha fatto la politica e comunque sia quando entri in quella zona industriale sinceramente sembra di essere in una regione del nord va bene Luigi io ti ringrazio per questa chiacchierata è stata molto interessante scoprire la tua azienda lunga vita MBL Solutions grazie mille grazie bocca al lupo a voi grazie mille 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 grazie mille